Buongiorno come ieri cominciamo dal maltempo. La previsione che ci ha mandato l'assessore regionale Giampaolo Bottacini, assessore regionale alla protezione civile, la previsione meteo realizzata dall'ARPAV dice questo fino alle 16 di oggi, ripresa di qualche isolato piovasco nelle prime ore, poi formazione di rovesci o temporali che saranno da locali a sparsi dalla tarda mattinata di oggi, quindi pioverà anche oggi. Non sono i fenomeni così intensi che hanno caratterizzato le ultime ore, ma insomma dobbiamo attenderci ancora a pioggia. A proposito delle ultime ore, giusto per darvi l'idea di come noi in provincia di Belluno siamo stati davvero risparmiati, sempre l'assessore ieri sera ha mandato una comunicazione che faceva, no oggi, era già oggi, una comunicazione sugli interventi effettuati nel Veneto, il punto a mezzanotte, poco dopo mezzanotte. Farà Vicentino, evento franoso fronte di 35 metri. Lusiana Conco, sempre Vicenza, evento franoso con riattivazione di frana pregressa. Comune di Vigonza, caduta di un albero di grosse dimensioni presso l'argine sul Brenta, con danneggiamento dell'argine. Marostica, sette movimenti franosi. Schio, numerosi movimenti franosi che hanno interessato la viabilità locale. Bassano, a Valrovina, una frazione, chiusura di contra Gagion Alto, evacuata una abitazione. Sandrigo, un intervento con pompe per contenere le zone di allagamento sul territorio. Comune di Camposampiero, il colmo è transitato, però lì c'è stata una rottura dell'argine e quindi è stato anche chiuso per alcune ore il ponte principale. Insomma, capite, è un bollettino e questo è il bollettino delle ultime ore di un fenomeno meteorologico che è andato avanti per un bel po'. Quindi, insomma, questa è la situazione piuttosto complessa, come capite. Allora, veniamo sui giornali. Ovviamente si parla anche del maltempo. Io ho voluto darvi l'aggiornamento che sui quotidiani non può esserci perché i quotidiani hanno chiuso prima. Il titolone e gli approfondimenti che aprono tutte le pagine dei giornali, specialmente i nostri che si occupano della provincia di Belluno, riguarda le Olimpiadi. Riguardano le Olimpiadi perché ci sono tre indagati. Bufera su Milano Cortina 2026, accuse all'ex amministratore delegato Vincenzo Novari, al manager Zucco, a Tomassini di Vetria, che è una società informatica che aveva ricevuto importanti appalti, sospetti anche sulla scelta del logo. Olimpiadi, tre indagati e il titolone, corruzione e gare truccate, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Fondazione. Questo sul Corriere delle Alpi, vediamo il titolo sul gazzettino, riguarda lo stesso tema, giochi, terremoto, giudiziario. Milano Cortina perquisita la sede, indagati l'ex di Novari e altri due per corruzione e turbativa d'asta. Nel Mirino, contratti, assunzioni e la gestione del logo olimpico. Nessun dirigente attuale coinvolto, sapete che c'era stato un cambio ai vertici. Questa indagine riguarda persone che adesso non hanno più un ruolo all'interno della Fondazione. Ieri mattina la Guardia di Finanza, entrata negli uffici della Fondazione Milano Cortina 2026, è stato l'inizio del terremoto giudiziario che ora scuote i giochi. L'ex amministratore delegato Vincenzo Novari e l'ex dirigente Massimiliano Zucco, insieme all'imprenditore Luca Tomassini, sono indagati per le ipotesi di corruzione e turbata libertà di incanto nell'aggiudicazione dei servizi digitali e della sicurezza informatica. Ma l'inchiesta promette di estendersi bene al di là di quella gara da 1,9 milioni, coinvolgendo anche altre forniture, sponsorizzazioni tecnologiche e assunzioni. Si fa il ritratto in prima pagina sul gazzettino di questo manager che aveva alle spalle, riceveva una spinta per i suoi avanzamenti da parte del Movimento 5 Stelle, di lui si sono occupate anche le cronache e Rosa perché sta per sposare una sua compagna storica che è una donna famosa, Danila Ferolla, ex Miss Italia. Le reazioni, Malagò, lo sport è vittima e il PD dice il governo chiarisca. Allora capite bene che una notiziona del genere finisce in prima pagina sul fascicolo nazionale del gazzettino, ma non può che, attenzione, occupa il primo sfoglio del gazzettino, pagina 2, pagina 3, terremoto giudiziario sui contratti olimpici, la difesa d'impresa ha vinto la gara perché ha offerto il prezzo inferiore. Pagina 3, eccolo qui, il manager spinto dal Movimento 5 Stelle, futuro sposo di un ex Miss Italia. Allora noi diciamo sempre una cosa, la ripetiamo sempre, prima di giudicare dobbiamo aspettare che siano finite le indagini, però è giusto che la nostra attenzione sia rivolta su questi fatti perché sono fatti gravi. Questo vi dicevo sulle prime pagine del nazionale del gazzettino, è però il titolo di apertura anche su Belluno. Ombra sui giochi, giusto indagare il titolone di apertura del gazzettino di Belluno. Olimpiadi e inchiesta per corruzione, il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, Lorenzi non ci fa piacere ma noi siamo sereni. Sarebbe stato meglio avere più notizie certe sull'evento del 2026, però a questo punto si faccia piena chiarezza. Qui ne scrive Marco Di Bona, le indagini della magistratura sulla segreazione di servizi da parte di Fondazione Milano Cortina 2026 hanno suscitato vivo disappunto in ampezzo. Le perquisizioni messe in atto dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza e le accuse di corruzione e turbata libertà di incanto a carico di tre persone gettano un'ombra. Dal municipio il sindaco Gianluca Lorenzi commenta è comprensibile che non ci faccia piacere leggere queste notizie, sarebbe meglio avere invece informazioni in eventi l'evento dei giochi 2026, però è giusto che sia così perché è giusto che ci siano verifiche e indagini. Si ricorda che nei mesi scorsi l'associazione Libera, che fa capo a Donciotti, più e più volte aveva raccomandato attenzione perché il rischio era alto, Libera gli atti in rete siano più accessibili a tutti. L'associazione Libera solo pochi giorni fa aveva lanciato l'appello per rendere trasparenti le procedure delle opere olimpiche e ora, dopo l'indagine della finanza, ribadisce l'urgenza di mettere gli atti in rete a disposizione di tutti. Questa vicenda occupa uno spazio anche all'interno del fascicolo di Belluno, verifiche necessarie, ora siamo più sereni, c'è un'impaginazione insomma molto ariosa in questa pagina, con il taglio basso che riporta la foto di Donciotti e dice, Libera insiste, dati delle opere in rete e accessibili a tutti. A tutti, allora torniamo sul Corriere delle Alpi dove leggiamo anche qui il lancio favori per 1,9 milioni di euro il valore di tre affidamenti aggiudicati da Vetria e Qui Byte per la gestione dei servizi digitali delegati ai giochi, quello emerso finora è un sistema messo in piedi dai tre indagati per favorire l'affidamento delle gare relative al cosiddetto ecosistema digitale a Vetria, in cambio ti somme di denaro e altre utilità per Novari e Zucco. Nella gestione quasi personalistica dei giochi rientrerebbe il tentativo di Zucco di pilotare l'individuazione del logo olimpico per interessi di carattere personale non altrimenti giustificabili. Malagò replica agli ambientalisti. Noi, scusatemi, agiamo con trasparenza il sindaco di Cortina, Lorenzi, efficaci protocolli per il controllo delle operazioni. Anche qui grande approfondimento perché trovate a pagina 2 il paginone intero l'inchiesta sulle olimpie di corruzione e gare truccate per posizioni e tre indagati, il PD, il governo riferisca in Parlamento, a Bodi, la fondazione, una casa di vetro, ma la goal ambientalisti, agli ambientalisti siamo aperti al confronto, agiamo con trasparenza. Perché dedichiamo tutto questo spazio, perché l'ha dedicato il giornale, lo dedichiamo anche noi in questa rassegna? Perché vengono i brividi a pensare a quanti affari, quante cose muovono le olimpie. No? Qui stiamo parlando su un singolo piccolissimo aspetto che riguarda, da tanti soldi, però è un piccolissimo aspetto che riguarda la gestione informatica. Pensate quante altre implicazioni ci sono, a cominciare dai mille cantieri che sono aperti, da tutte le parti, da tutte le parti intendo non solo la provincia di Belluno, penso nel Veneto, a Verona hanno fatto cose enormi con le Olimpiadi, penso alla Lombardia, dappertutto con i soldi delle Olimpiadi. La possibilità che ci sia qualcuno che ci mette lo zampino per avere un ricavo personale ovviamente è alta e noi dobbiamo dire anche da qui che tra i soggetti che più si sono messi in luce in questo tipo di denuncia c'è stato proprio Don Luigi Ciotti con la sua libera che ha tante sezioni anche in provincia di Belluno. Vediamo qualcos'altro sulle prime dei giornali di oggi, Ghiaia e Detriti intasano il Diebba e qui stiamo parlando del comune di Auronzo, danni contenuti in provincia per il mal tempo, ma a Valpore di Seren il top delle precipitazioni del Veneto. la didascalia che spiega la situazione di questo ponte che ha la luce quasi ingombra ormai di detriti, dice sopra il luogo del comune di Auronzo e di Enel, subito lavori urgenti per pulire l'alveo del Diebba. Allora, io su questa prima pagina non vi direi, vi leggo due titoli velocemente, liste d'attesa più di 3.000, le prestazioni da smaltire, lacci lungo il torrente, trappoli per lupi, limanese va a processo, questo, vabbè, ancora l'addio alle gare di Elena Dolmen nello sci alpino, ma passiamo alla prima pagina del gazzettino di Belluno, dove già prima eravamo, per vedere quali sono le altre notizie che vengono date da quest'altro nostro giornale quotidiano, la foto centrale, tragica, fine nel torrente, muore architetto 33enne, sedico scomparso nell'orrido mentre faceva canyoning, il lutto alla comunità di sedico si stringe alla famiglia di Alessandro Dallò, un giovane che nella natura, scoperta proprio in Valbelluna, vedeva il proprio futuro appassionato di canyoning e torrentismo, avrebbe voluto farne il suo mestiere, invece è successa una disgrazia e è finita malissimo, volevo dedicare un attimo a questa vicenda che è inquietantissima, chi l'ha aggredita voleva ucciderla, ma il caso è chiuso, nel 2021 una donna fu presa bastonata a Castoi, il Gip Archivia, aggressione senza colpevoli, l'autore della donna voleva eliminare la donna, l'autore dell'azione, il delitto è stato premeditato e l'autore del gesto violento aveva una approfondita conoscenza dei luoghi, questo è un virgolettato, eppure tutto questo non basta, resta senza un colpevole, il tentato omicidio di Castoi avvenuto la notte tra il 23 e il 24 dicembre del 21, quando sotto casa una donna venne presa a bastonate da uno sconosciuto che la salì alle spalle, la stava aspettando, venne indagato il marito ma non ci sono elementi contro di lui e ieri il Gip ha disposto l'archiviazione del caso. Feltre il figlio disabile in RSA, spostatelo in un altro centro, il figlio disabile trentenne è in una casa di riposo, l'appello della madre che chiede alle istituzioni una struttura adatta che prevede attività, lì si sta spegnendo. Sono i problemi enormi della gestione delle situazioni critiche, non sempre abbiamo le strutture adeguate. Arriva il giro d'Italia, la provincia si veste di rosa, sono giorni di attesa per il Veneto per la provincia, un vento rosa sta per travolgere in date diverse tre località di interesse bellunese per iniziare un gran premio della montagna Alamon domani, con i corridori che daranno spettacolo passando per Feltre e continuando verso le colline del Prosecco. Venerdì un'appassionante salita oltre i confini carnici con l'arrivo a Sappada, la nostra ex nostra Sappada. Sabato il Gran Trionfo in Alpago con una partenza incorniciata sulla sponda del lago di Santa Croce. Quello che è certo è che confidando nel bel tempo gli spettatori faranno meglio ad essere puntuali già a partire dal mattino. Sull'amico del popolo che esce adesso daremo tutte le indicazioni per chi vorrà arrivare a Sappada senza trovarsi intasato nel traffico. Belluno, alto a Gordino, un'ambulanza per l'estate e presidio rinforzato a Cortina e a Oronzo. Sono buone notizie per il nostro turismo. Belluno, la Camera di Commercio potenzia l'ITS Academy, sono quei percorsi che si possono fare dopo le superiori e che non sono università, una via di mezzo. Non conosciamo l'ITS dell'occhiale. Palazzo Pagani-Cesa verrà rimesso a nuovo, parliamo della vecchia sede della Camera di Commercio, sede bellunese della Camera di Commercio, che però ha la testa a Treviso dopo la fusione. Partiranno, saranno create nuove aule, sarà speso un milione e mezzo praticamente per potenziare la sede bellunese della Camera di Commercio come sede del Master Dolomiti Tourism, Marketing e Communication con 22 iscritti. Attualmente non potrebbero crescere. Pieve di Cadore, l'associazione Parkinson al fianco di chi si ritrova solo. Con questo mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Oggi è mercoledì 22 maggio, come sempre l'invito a seguirci su www.amicodelpopolo.it e su Radio Piave. Durante tutta la giornata vi forniremo notizie e aggiornamenti sui fatti di oggi. Grazie a tutti, un abbraccio da Luigi Guglielmo.